Corsa contro il tempo dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali per salvare 30 cani in Libano. Qui, in un territorio sempre più dilaniato a causa del conflitto tra Israele e Palestina, gli amici a quattro zampe rischiano di morire tra atroci sofferenze. Ed ecco perché Back to Life Dog Rescue, organizzazione non governativa basata in Italia e guidata dalla libanese Pascale Saro Ufim, sta lavorando giorno e notte per regalare una seconda opportunità ai cuccioli meno fortunati residenti a Batroun, Bebdine e Emlaia, 30 cani che prima voleranno in Francia a bordo di un aereo cargo e poi saranno trasferiti in Italia. Un viaggio necessario nonostante il costo esorbitante, proprio per questo l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali chiede un piccolo contributo a tutti gli amanti dei pet e non solo.